Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come state leggendo dal video oggi vi voglio spiegare una cosa molto interessante per quelle persone che creano videogiochi non soltanto su Construct ma anche su altri engine Se stiamo sviluppando ad esempio un videogioco per desktop, quindi in particolare per pc, mac o sistema operativi linux Una cosa che secondo me potrebbe interessare è mettere il videogioco in pausa direttamente quando un utente ad esempio esce per sbaglio dal gioco o semplicemente cambia finestra Questa cosa può essere fatta direttamente dai nostri videogiochi web, che questa cosa potrebbe servire, ma anche per i nostri videogiochi che appunto vengono pubblicati all'interno di Steam e così via Vi ricordo che questa opzione può essere anche utilizzata per i nostri videogiochi mobile, quindi se ad esempio vogliamo fare che se il nostro utente sta giocando e per sbaglio ad esempio mette in background il browser Bene, il gioco in automatico si mette in pausa All'interno di Construct come adesso vi farò vedere c'è già un'opzione per fare questo, ma oggi voglio spiegarvi anche come basta fare una piccola cosa che impiegherete alla fine di un minuto Per mettere anche in automatico il gioco in pausa, vi faccio vedere Siamo all'interno di Construct, ho preso il primo progetto vecchio che ho trovato, infatti ho preso Ciccio vs Zombies, trovate la playlist completa in descrizione E questo videogiochi è stato fatto con Construct Runtime 2, quindi un po' vecchiotto ma va bene lo stesso per quello che dobbiamo fare A sinistra, se vado nelle avanzate, in basso posso leggere Pause on Unfocus Cosa vuol dire? Quest'opzione si attiva, va a mettere il videogioco in pausa Guardate qui, io adesso la disattivo, faccio play come state vedendo Esco dal gioco, guardate qui Se io clicco play, sto giocando, se io vado adesso a cliccare fuori, come state vedendo, anche se io adesso sto facendo altro Ho cliccato fuori, quindi sto lavorando qui fuori all'interno del mio sistema operativo sul desktop Il gioco non è in pausa Mentre, guardate un po' adesso questa opzione, se io invece vado ad attivare Pause on Unfocus Guardate invece quello che succede, io sono all'interno del gioco, clicco una cosa esterna a questo videogioco, quindi clicco fuori Il gioco è in automatico, si va a mettere in pausa Questa opzione vi ricordo che può essere utilizzata ad esempio all'interno dei nostri videogiochi mobile Ci immaginiamo ad esempio Albano vs Dinos, la persona sta facendo un record Al nostro videogiocatore arriva una chiamata, in automatico il videogioco si mette in pausa Guardate qui però, se io adesso arrivato a ricliccare su questa finestra, il videogioco riprende, subito E come state vedendo questa cosa potrebbe essere un po' scomoda Perché avete visto, io clicco adesso sulla finestra, il gioco prende subito, parte subito Questa cosa potrebbe essere un po' scomoda Nel video di oggi voglio spiegarvi semplicemente che se abbiamo ad esempio progettato un menu di pausa All'interno del nostro videogioco, possiamo fare questo Che se l'utente esce fuori dal gioco, per sbaglio o volutamente, per x motivi In automatico avviamo la pausa nel gioco Quindi immaginiamo che l'utente ha cliccato sul bottone pausa e quindi appare la schermata pausa Io cosa ho fatto così in brevissimo tempo? Ho creato un layer di nome pausa Con un'immagine di sfondo, questa qui di opacità mettiamo 70, è una scritta pausa E ho detto che tutto questo layer, come state vedendo, è invisibile, quindi non si vede mai E cosa voglio fare? Voglio fare che quando il videogiocatore esce dal gioco E rientra, il gioco continua a essere ancora in pausa In modo tale che se l'utente vuole riprendere a giocare, deve cliccare il bottone continuo e riprendere Quindi guardate, aggiungo un evento Devo utilizzare l'oggetto browser per controllare se l'utente effettivamente è uscito dal videogioco oppure no Quindi faccio browser E guardate qui, trovo un'azione, un trigger Ovvero on suspended Praticamente quando la pagina viene sospesa Quindi quando prendo un app in background, quando ho cambiato tabella Quando ho minimizzato, così si dice la finestra Ovvero ho cliccato questa icona qui e quindi si rimpicciolisce la finestra Tutte queste azioni qui, cosa fanno? Vengono triggerate se sospeso Quindi cosa faccio? Se la pagina viene sospesa, cosa faccio? Aggiungo un'azione, vado su system Vado a impostare che il gioco si frizza Quindi faccio set time scale a zero Questa cosa ce l'ho spiegata più volte in diversi corsi Vi basta vedere i link che trovate in descrizione Aggiungo un'azione, voglio rendere quel layer che prima era invisibile Ovvero il layer pausa, visibile Quindi vado a cercare l'opzione, guardate qui Set layer visible E vado a mettere il layer pausa In questo modo Guardate un po', io clicco il bottone play Parte il mio videogioco Immaginiamo che l'utente per un motivo o per un altro Se è su mobile, se è da computer, da tablet e così via Esce fuori dal videogioco Guardate qui, clicco esternamente Il gioco si è messo in pausa Questo perché abbiamo impostato nell'opzione Pause on unfocused Benissimo, appena rientro nel gioco Il gioco è in pausa Come state vedendo La telecamera ovviamente rimane attiva Il movimento della telecamera Perché l'abbiamo deciso a livello di codice Come avete visto è in pausa Successivamente cosa possiamo fare? Possiamo mettere un bottone Che se viene cliccato Va a impostare il time scale a uno E ovviamente questo layer va via Quindi questa cosa può servire tantissimo Sia all'interno del mio videogioco arcade Ad esempio l'utente si trova in un punto in cui sta facendo un record incredibile E non vogliamo inserire proprio la pausa nel nostro videogioco Però se per sbaglio esce dall'applicazione O riceve una chiamata Riceve un sms O ha messo in blocco il telefono per sbaglio In automatico quando lui rientrerà nel gioco Il gioco non riparte subito Perché se noi attiviamo soltanto l'opzione Pause on unfocused Quando l'utente rientra in automatico riprende In questo caso non riprende Fino a quando poi noi non cliccheremo sul bottone Ad esempio play Oppure continua Perché vi ricordo che in questo momento Ho avviato un layer pausa Ovviamente non entro troppo nel dettaglio Su come creare un meno di questo genere Perché poi farò un corso nel dettaglio Dove magari poi raggruppo tutte queste cose qui Ma per quelle persone che conoscono già un minimo construct Sanno di cosa sto parlando Quindi ragazzi Quest'opzione potrebbe essere veramente utile Vi ricordo che se volete comunque mettere soltanto in pausa Il videogioco Quindi quando sono uscito dal gioco è in pausa Basta semplicemente andare sulla sinistra E impostare appunto Pause on focus Attivo Se vogliamo far vedere anche questo menu Infatti adesso io guardate Cancello tutto quello che ho creato fino ad ora Guardate lo disattivo Se io esco dal gioco guardate cosa succede Il gioco va in pausa Se rientro riprende subito Su questo gioco va benissimo Ma in altri giochi arcade Con una fisica come ad esempio Flappy Bird Non va bene che se io esco E rientro il giocatore O in questo caso il personaggino Cade subito verso il basso In quel caso vogliamo subito mettere un menu pausa E quindi dare all'utente la possibilità di riprendere a giocare Queste sono piccole cose che effettivamente cambiano poi il nostro videogioco Piccoli dettagli che però ragazzi sono importanti Immaginiamo ad esempio stiamo sviluppando un videogioco su Steam Arriva una notifica in particolare Oppure un'altra applicazione viene aperta e così via Queste piccole cose possono servire Specialmente se è un gioco d'azione Quindi far proseguire il videogioco mentre si è aperto un'altra finestra è un problema Quindi è meglio mettere in pausa Fatemi sapere cosa ne pensate Sono quelle piccole cose che cambiano poi la qualità del nostro videogioco Sono cose che ragazzi consiglio di fare Extra 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 super opzionali Ovviamente Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video E allora ci vediamo domani Ciao 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 Grazie a tutti.